le prime sensazioni sono sono ottime sono molto contento di essere qua sono molto contento di venire qua per fare una stagione importante sono molto contento e sono pronto sì sì certamente conosco bene l'allenatore quindi anche quello mi ha dato un motivo in più di pervenire qua poi anche luca che conosco da viterbo siamo giocati insieme quindi anche lui mi ha aiutato per per scegliere il catanzaro diciamo quindi sono ancora più facile ovviamente conoscendo loro due arrivare qua sentirmi sentirmi subito a casa io spero di riportare la esperienza c'è una poca esperienza che ho avuto gli ultimi anni di vincere il campionato spero di portarlo qua in questa questa città società e anche questa squadra che comunque è una una città importante società molto importante e quindi spero di riportare anche questa società in più alto questa squadra perché conosco un po' conosco un po' anche da luca baldassino ovviamente la storia la società la squadra e quindi secondo me meritiamo o merita questa questa città di stare di stare in più alto allora sono innanzitutto sono un centrocampista offensiva sono giocatore che darà sempre il massimo per la squadra per i tifosi per per tutta la società perché sono sempre in grado per per tutto che che fanno più alto e io a campo farò sempre sempre il massimo per provare fino all'ultimo secondo di vincere la partita e niente tutto qua ciao cari tifosi di catanzaro speriamo di rivederci presto allo stadio e salutare insieme la vittoria forza acule ciao ciao ciao